Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa diocesana di Pescara Penne. Oggi è sabato 24 febbraio e la chiesa celebra la memoria dell'abbiato Tommaso Maria Fusco, sacerdote. Il presidente della giunta regionale, Marco Marsiglio, ieri mattina all'ospedale San Pio di Vasto, nel reparto di radiologia, ha inaugurato la risonanza magnetica di ultima generazione che sarà al servizio dell'utenza a partire dal prossimo 26 febbraio. Sentire che ci sono impianti tecnologici che attendevano da 23 anni di essere sostituiti, ha commentato Marsiglio, mi ha fatto accapponare la pelle. Per questo sono orgoglioso di aver potuto riconsegnare, a fine mandato, un ospedale tecnologicamente attrezzato e un programma già avviato di potenziamento tecnologico in tutta l'asl Lanciano-Vasto-Chieti. La messa in funzione di questa nuova risonanza è un intervento proseguito che oltretutto contribuirà ad un sensibile abbattimento delle liste di attesa e questo è l'aspetto più significativo perché ha un impatto rilevante sulla prevenzione sanitaria della popolazione. Alla presentazione della nuova apparecchiatura al servizio di radiologia è intervenuto anche il direttore generale dell'asl di Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schaell, insieme al sindaco di Vasto e al presidente della provincia di Chieti, Francesco Menna e insieme anche all'arcivescovo dell'arcidiocesi di Chieti-Vasto, Monsignor Bruno Forte, che tra l'altro appunto hanno sottolineato come questa risonanza magnetica da 1,5 Tesla sfrutta i vantaggi della tecnologia digitale in termini di qualità e velocità rappresenta l'ultima evoluzione dei sistemi di risonanza magnetica. Consente dunque di studiare e diagnosticare in modo preciso moltissime patologie ed eseguire esami su tutti i distretti anatomici, compresi il neurologico e il cardiologico. E sempre ieri il presidente della giunta regionale Marsiglio, a Vasto nella sede dell'ufficio circondariale marittimo, alla presenza del segretario generale dell'autorità di sistema portuale del Medio Adriatico, Salvatore Minermino, e del comandante del porto di Vasto, Stefano Varone, ha fatto il punto sui progetti di sviluppo dello scalo portuale vastese. I 25 milioni di euro ottenuti recentemente per l'ampliamento della piastra logistica di Levante del porto, risorse derivanti dall'accordo di sviluppo e coesione firmato pochi giorni fa con la premier Giorgio Meloni, ha dichiarato Marsiglio, rientrano in un più ampio programma di finanziamenti e lavori attualmente in corso nel porto di Vasto. Infatti in questo discorso, ha spiegato, vanno anche considerati i 12 milioni di euro previsti per prolungare di circa 200 metri la diga foranea, opera che vede la regione Abruzzo in veste di stazione appaltante. Riguardo a questo intervento, esiste già il progetto definitivo e a breve inizieranno i lavori. Poi, a proseguito, ci sono i fondi PNRR per l'ampliamento della banchina, intervento già appaltato, oltre al milione di euro, già speso per la realizzazione della rotattoria di collegamento al porto di Vasto, primo cantiere della zona economica speciale, ad essere stato aperto in Italia. Senza contare i lavori per completare l'ultimo miglio ferroviario, determinanti anche nell'ottica di potenziamento della zona industriale della Val di Sangro. Infine, ha concluso Marsiglio, la circostanza che il porto di Vasto, grazie al nostro impegno e alla sinergia con l'autorità di sistema portuale, abbia da un paio d'anni valenza nazionale, consentirà di attingere ulteriori risorse statali per completare tutti gli interventi necessari per lo sviluppo definitivo proprio del porto di Vasto. Il riconoscimento del valore della clausola contrattuale nell'ambito delle gare per l'affidamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Bruzzo è stato sancito dall'intesa firmata negli uffici della regione dall'Agir, l'Agenzia per la Gestione Integrata dei Rifiuti, l'Anci Abruzzo, l'associazione che raccoglie i comuni del territorio e le organizzazioni sindacali regionali FP, CGL, Fitcisle, Will Trasporti, alla presenza dell'assessore con delega ai rifiuti della regione Abruzzo, Nicola Campitelli. Nello specifico si tratta di un accordo che stabilisce l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i servizi ambientali 2022-2024, quale riferimento contrattuale in ogni procedura di gara gestita da Agir in qualità di stazione appaltante in conformità con i commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo numero 36 del 2023. Avere procedure certe nei bandi di gara che coniugano la tutela dei lavoratori con la qualità del servizio costituisce e rappresenta una garanzia per tutti in un contesto nel quale deve essere sempre più rafforzato il governo pubblico, virtuoso del sistema di gestione dei rifiuti, commenta il presidente di Anci, Abruzzo d'Alberto. Adesso, prosegue, sarà importante portare avanti un'attenta attività di controllo per evitare la concorrenza sleale che passa anche per l'applicazione di contratti non corretti e che non può assolutamente essere accettata. Le associazioni 180 Amici, l'Aquila e il TS ODV, altri orizzonti Onlus, Cosma ODV, Percorsi ODV, Diapsi, Chieti, Cittadinanza Attiva, Abruzzo, Unasamma ODV, hanno inviato una lettera aperta ai candidati alla presidenza della regione Abruzzo per chiedere il loro impegno, una volta eletti, a una maggiore attenzione sul problema della salute mentale in Abruzzo. Le associazioni, infatti, rilevano ancora troppi servizi territoriali in sofferenza per carenze di personale, pratiche troppo spesso centrate sugli interventi di emergenza-urgenza, per pochi strumenti di inserimento lavorativo e di inclusione, per mancanza di esperienza nel promuovere insieme ai pazienti esperienze di coabitazione. La consulta per la salute mentale, insigniata con DGR 108 del 28 febbraio 2022, salvo che per il percorso di definizione di un regolamento unificato regionale per le borse lavoro psichiatriche non ha prodotto ancora i risultati attesi. Nella prossima legislatura la regione, attraverso l'assessorato alla sanità, dovrà finalmente renderla operativa. Le associazioni chiedono inoltre che venga subito convocata la consulta e che al primo punto, all'ordine del giorno, ci sia il monitoraggio dei progetti attuati dai dipartimenti di salute mentale delle ASL, in attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali, volti al loro rafforzamento, approvate con l'intesa Stato-Regioni del 28 aprile 2022. Sono ripartiti intorno alle 18.30 di ieri 51 studenti del liceo scientifico Fermi di Sulmona rimasti bloccati sull'autostrada in Austria per sei ore a causa del maltempo che ha provocato l'inagibilità del passo del Brennero. Il tratto autostradale è stato liberato dai mezzi spartineve, ma si è viaggiato a rilento. Si sono registrati oltre 40 chilometri di coda in direzione Italia. Fortunatamente siamo all'inizio della fira, ha fatto sapere la docente Francesca Abriano, rassicurando sulle condizioni degli studenti tutti affaticati, ma in buone condizioni il bus ha poi proseguito alla volta di Sulmona. L'ASL Lanciano Vasto Chieti è un'azienda estesa che conta circa 5.000 dipendenti e serve un bacino d'utenza che va dalla costa all'entroterra. Arrivano aggiornamenti continui sulle evoluzioni di quella che sarà la nuova riorganizzazione della rete territoriale ospedaliera, ma nel mentre la priorità del presente parla di impellenti necessità. Lo richiara Carmine Gasbarro, segretario provinciale della FP CGL di Chieti. Siamo in attesa, dice, anzi auspichiamo nuove assunzioni necessarie a migliorare l'organizzazione del lavoro per molti profili professionali. Non solo, aggiunge, per l'area sanitaria e sociosanitaria, dove le gradatorie disponibili sono già in scorrimento, ma anche per l'area tecnica amministrativa. Occorre, afferma ancora Gasbarro, un'organizzazione del lavoro che non utilizzi le pronte disponibilità per compensare le carenze organiche e che non vada a erodere il fondo contrattuale dedicato, limitandone le risorse per altri istituti. Va salvaguardata invece la corretta gestione di vita e lavoro. In Via Lago di Capestrano, siamo dunque a Pescara, va trovata al più presto una soluzione che riporti sicuramente la legalità in zona, senza però creare problemi di sicurezza ai tanti cittadini onesti che ci vivono. Il mio riferimento è la decisione dell'amministrazione comunale di Pescara di abbattere delle recensioni che si trovano davanti ai portoni di alcuni palazzi. e questo alla luce di criticità strutturali riscontrate e abusivismo. Il punto è che quei muretti che sono lì da 40 anni per gli inquilini di quegli stabili rappresentano ormai una forma di sicurezza. Temono che una volta buttati giù si ritroveranno in balia di tossici, delinquenti e sbandati a far presente il problema e a rivolgere un appello al sindaco di Pescara Carlo Masci e la consigliere del comune di Pescara della Lega, che è anche presidente delle politiche sociali abitative, Maria Luigia Montopolino, che ha anche incontrato in Via Lago di Capestrano alcuni residenti. In questi giorni, ha spiegato, sono stata contattata da diversi inquilini dei palazzi interessati all'abbattimento, tutti molto arrabbiati e delusi, ha detto ancora la Montopolino. Dal 26 febbraio al 3 marzo la Coppa Davis, trofeo conquistato dalla squadra italiana nella finale di Malaga, sarà esposta in Abruzzo. Il cosiddetto Trophy Tour sta facendo il giro dei più importanti club italiani per condividere con tutti gli appassionati il grande successo ottenuto dai nostri campioni. In Abruzzo toccherà prima Pescara, dal 26 al 28 febbraio al Circolo Tennis Pescara, poi l'Aquila il 29 febbraio e il 1 marzo, quindi Teramo il Circolo Tennis Bernardini e dal 2 al 3 marzo. Nel capoluogo il trofeo arriverà giovedì 29 febbraio. Siamo al meteo, sull'Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con possibili precipitazioni a carattere sparso, più probabili sull'Alto Sangro e nel Chietino, il miglioramento temporale nel corso della mattinata, con probabili schiarite nel pomeriggio e tardo pomeriggio, possibili nuovi addensamenti, soprattutto sui rilievi delle zone interne. Tempo stabile anche per domani, anche se proprio domani sono attese parziali schiarite. Temperature in diminuzione, specie nei valori massimi, venti deboli o moderati, mare generalmente mosso o molto mosso. E con i dati di abruzzometeo.org noi ci salutiamo. Grazie per averci seguito e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.